Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIODER e ragazzi, mentre ero in live, i ragazzi in chat mi hanno detto che c'è una cosa incredibile a Megamall ragazzi, ai grandi magazzini! E' apparso da pochissime ore il portale di Stranger Things ragazzi, è assurdo, è assurdo! Voglio farvelo vedere perché si trova qua sotto, si trova, guardate ragazzi che roba, guardate che roba! Siamo dentro nei grandi magazzini e oh mio Dio raga, oh mio Dio! E' una cosa incredibile, ve l'avevo detto ragazzi, nei video precedenti che ci sarebbe stata la collaborazione con Stranger Things, ovviamente il portale... Porca vacca! Ci si può entrare dentro! Ci si... ci si teletrasporta! Oh mio Dio! No vabbè raga, meravigliosa questa cosa, l'inizio della collaborazione è ufficiale! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando raga, venite qua a provare il portale, un bel pollicione in su, iscrivetevi al channel, noi siamo in live! Ciao! 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 Ciao!